Allora, due cose per tranquillizzarci subito. Allora, per gli anziani a Bologna è stata organizzata una task force per il caldo. Quindi vai in motè da un anziano, fermali per strada e dice Lei lo sa cos'è una task force per il caldo? Lui ti dirà, certo, benissimo, la task force per il caldo. Per il caldo, l'abbiamo sempre detta, task force come termine. Quindi lì siete tranquilli, loro lo sanno cos'è la task force, l'anziano bolognese, lo sa. Poi in Valsamoggia c'è una corsa di notte di bike e il titolo è Valsabike XC in the night. E siamo tranquilli lì perché Valsabike in the night vuol dire che Valsamoggia è in provincia di Londra. Valsabike in the night. Allora, se non è da smeriglio, da zing, da squasso questo, cos'è da smeriglio, da squasso? Se non è questo. Valsabike in the night. Valsamoggia! 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 Valsamoggia!